Ben trovati nell'angolo dello sport, forse avrei dovuto ritardare il telegiornale, ma il nostro è un palinzesto preciso, come tutti i palinzesti delle varie televisioni, per cui non posso adattarlo alle esigenze della cronaca. Nelle ore in cui vi sto parlando io stanno discutendo e parlando quelli del collegio di garanzia che si deve pronunciare sui ricorsi delle squadre che potrebbero essere ripescati in serie B. Ho detto che nel momento in cui vi sto parlando è probabile che abbiano già concluso, comunque sia domani, poi ne parleremo più diffusamente. Quali sono le squadre che sperano? Catania, Novara, Provercelli, Siena, Ternana e Dentella sperano. Siamo a 19, squadre adesso potrebbero diventare 22, che pare che sia questa la scelta finale, ma è inutile stare a fare dei preventivi o delle previsioni. Quindi, se tanto mi da tanto, sono sei squadre che vorrebbero ritornare in serie B, ma tre posti ci sarebbero eventualmente. Ma non ho parlato ancora dell'Avellino, la quale società avellinese ha cominciato a fare, come si dice, il 48. Il 48 è un ricordo della rivoluzione a Milano. Stiamo parlando di risorgimento. Avellino ha detto che se non ci rimandate in serie B, se non ci portate in serie B, qua succede casamicciola. È una situazione estremamente imbarazzante. Credo che mai, come in questo momento, il calcio italiano stia vivendo un momento di estremo imbarazzo. È partito il campionale di serie B, è partito a 19 squadre, non si sa se arriveranno a 22. Se dovessero arrivare a 22 le prime partite avranno valenza, sì, per cui però dalla quarta giornata in poi bisognerà rifare il calendario. E vabbè, è così. È una cosa all'italiana. Balata, il presidente della rete che voi vedete in sovraimpressione che il mio regista Leo Di Blasio ha ben inquadrato, ha detto, io mi sento un innovatore. Abbiamo studiato tutti che il campionato doveva essere fatto con delle squadre capaci di reggere il peso della gestione. 19 erano le squadre papabili, le altre no. Quindi se devono entrare per rifare altro casotto, perché tanto alla fine salteranno perché non hanno i soldi per sopravvivere, è allora che siano a casa. Vabbè, due minuti se me li concede Leo per parlare un po' del Pescara. Ci sono problemi per Balzano che è infortunato. Sono già in vendita i biglietti per Brescia. Brescia è in emergenza per quanto riguarda la difesa. Dopo Castaldello e Sabelli che sono ancora squalificati, c'è Lancini che si è fatto male. Però anche noi non è che abbiamo grandi possibilità perché Campagnaro che sta giocando bene in queste prime due partite, ha giocato bene, ha detto che oltretutto si è in un ambiente molto sereno, molto tranquillo, gratificante, cosa che non era l'anno precedente perché si era lamentato dei duri lavori di Zeman che lo costingevano a subire degli infortuni. Adesso con i carichi di lavoro più leggeri potrò rendere di più e meglio. Staremo a vedere. oltretutto c'è da dire che tutta la squadra sta lavorando bene. Stanno approfittando di questo periodo di non impegno ufficiale per poter rendere un po' più automatizzati o automatici i movimenti fra i vari settori. Perché? Ma perché stanno capendo, viva Dio, che il calcio non è fatto di singoli ma non è fatto nemmeno di reparti. Tutti devono lavorare insieme in un unico coacervo di azioni a te a portare il pallone dentro la porta avversaria. E detto questo posso anche chiudere. Leo grazie per la tua splendida collaborazione. Grazie a voi tutti per la fidelizzazione. State sempre costantemente a seguire la mia rubrica. Quindi un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso e appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.